Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio introdurre un nuovo linguaggio di programmazione. Ora, in tutti i video che ho fatto sul canale, io ho principalmente trattato, ho principalmente approfondito tre linguaggi di programmazione diversi, che sono il Python, il C e il MaxLisp. Ora, entrambi di questi tre linguaggi hanno dei pro e dei contro. Ad esempio, il Python è utile per scrivere script molto brevi, quindi script un po' sporchi, molto brevi, ha un sacco di librerie, quindi è molto utile. È molto facile scrivere del codice in Python, ma, come contro, è abbastanza lento e non permette di scalare bene quando un progetto diventa molto grande, o comunque ci sono delle difficoltà nel mantenere un progetto molto grande scritto in Python, e quindi questi sono dei contro. Il C, invece, è molto veloce, ha delle strutture che permettono la scalatura di progetti molto complessi, ad esempio i tipi statici, cioè le variabili del tipo int, float, eccetera, eccetera. È molto potente in generale come linguaggio, quindi molto veloce e molto potente, ma quella potenza è lasciata completamente nelle mani del programmatore, e quindi potrebbe portare, se gestita male, quella potenza potrebbe portare a dei problemi di vulnerabilità informatica. Ad esempio, il recente video che ho fatto sul software PK-Exec e sulla vulnerabilità di questo software, fa vedere come una cattiva gestione della memoria in C potrebbe portare un attaccante a prendere il controllo di una macchina. Quindi il C è molto potente, molto veloce, ma quella potenza è completamente lasciata al programmatore. E poi abbiamo visto l'IMAXLISP. L'IMAXLISP, a differenza del padrone C, viene scritto, ha proprio una sintassi completamente diversa, che si basa su queste S-Expressions, che all'inizio potrebbero confondere molto, e uno potrebbe dire ma che vuol dire questo codice, ma poi, man mano che uno capisce che cosa significano, e, diciamo, acquista molto potere e si capisce che l'IMAXLISP è un linguaggio molto, molto potente che permette di esprimere le computazioni in un modo molto, molto interessante. Quindi questi tre linguaggi, appunto, ciascuno ha dei pro e dei contro. E, tra l'altro, l'IMAXLISP è interpretato da IMAX, quindi offre un'abilità di estendere IMAX in un modo molto, molto potente. Ora, questi tre linguaggi sono, appunto, linguaggi di programmazione. Quindi questo che significa? Significa che, a prescindere dalle singole differenze che possono avere l'uno con l'altro, tutti e tre ci permettono di strutturare una computazione. Cioè, ci permettono di dire al computer come eseguire un determinato calcolo. E di modi per strutturare una computazione ce ne sono tantissimi. Per chi io posso fare uno stesso calcolo, posso arrivare alla stessa risposta per risolvere un determinato problema in un sacco di modi diversi, in tantissimi modi diversi. Questo che significa? Significa che di linguaggi non c'è solamente il Python, il C e l'IMAXLISP. Ce ne sono un sacco, ci sono un sacco di modi per strutturare una computazione. E ciascun modo diverso offre, ciascun linguaggio diverso, permette di vedere una computazione in un modo diverso. E in questo video voglio introdurre un quarto modo di strutturare una computazione. E in particolare vorrei introdurre il linguaggio Rust. Ora, io premetto che non so programmare il Rust. Lo sto proprio imparando questi giorni. Ho iniziato qualche settimana fa leggendo il tutorial. E in questo video farò, introdurrò un pochino i costrutti che fino adesso ho capito del linguaggio Rust. Il linguaggio Rust è molto molto interessante. Perché vuole avere delle performance simili al C, cioè vuole essere molto molto veloce come il C. Ma a differenza del C vuole in un certo senso restringere il potere del programmatore. Ma questa cosa non deve essere vista come una cosa negativa. Non è che sta restringendo ciò che possiamo calcolare. Ma il compilatore di Rust richiede un po' più effort per scrivere un programma corretto. Ma la cosa figa di Rust è che una volta che il nostro compilatore ci dà l'output, ci dà il binario, noi sappiamo che quel binario rispetta determinate proprietà. Perché appunto, proprio per come funziona, o comunque questo è l'idea di Rust, cioè che il compilatore magari fa più controlli e non ti fa compilare il programma se il tuo programma è scritto in un certo modo, ma non appena il tuo programma compila bene, cioè tutti i check passano, allora quel programma è abbastanza sicuro. O comunque rispetto a determinati contesti è sicuro. E quindi questa è una cosa molto molto interessante da esplorare. Però ripeto, io non so programma in Rust, quindi se vedete che utilizzo dei costrutti in modo sbagliato o comunque che possono fare di meglio, per favore fatemelo sapere perché voglio comunque imparare a utilizzarlo bene. Ora, come vedremo questo Rust? Bene, l'idea è che ho implementato questo gioco, gioco dell'impiccato. Io per eseguirlo chiamo Cargo Run, dove Cargo è il Packet Manager di Rust, ma poi lo vedremo nel corso del video, nel tutorial. Quindi io faccio Cargo Run, lui mi lancia questo gioco, mi fa Welcome to the Hangman Game. E io qua scrivo una parola da indovinare, tipo posso scrivere per esempio Hello. Qua non si vede quando sto scrivendo perché appunto questo è un gioco pensato da giocare offline con un amico, uno si mette prima a scrivere e poi l'altro prova a indovinare. Quindi adesso io ho premuto invio, prima ho scritto Hello, poi ho premuto invio. E adesso qua c'è lo stato corrente, cioè ci sono diciamo queste lettere da indovinare e ho i tentativi rimanenti. Per esempio se io scrivo una H, la H stai nell'O, lui mi trova, ok, ho trovato una H e me la fa vedere dove l'ha trovata. Poi posso scrivere per esempio E, ok ho trovato la E, me la trova pure. Ma se io metto tipo la D che non stai nell'O, lui mi dice guarda non l'ho trovata e qui ho perso una vita. E i tentativi rimanenti adesso sono 7. Se provo tipo S, tipo A, tipo Q, tutte cose sto ovviamente per morire qui praticamente. Ok, la E ci sta, la M l'aveva già trovata, perfetto. E la R no, la R non ci sta, faccio R di nuovo, faccio R di nuovo. E qui ho perso. Invece qua, quando ho perso poi mi dice che il segreto era Hello. Me le mette tra queste apici grevi mi sembra. Tra questo accento greve. E questo più o meno è l'idea, se invece noi facciamo una run vincente, in cui io dico, la indovino la parola, la faccio tipo H, E, L, L, O. Poi lui mi dice you won e basta. Io premo ok e mi finisce il gioco. Quindi questo gioco è stato implementato tramite la libreria NC Curses. E questo è praticamente il codice. Quindi qua utilizzo una libreria esterna NC Curses. Questo è il codice. E qua ovviamente ci sono tutti, diciamo, i vari template delle varie vite. Ma la principale parte del codice è questo main. E niente, quindi voglio semplicemente scriverlo assieme. Per, così, per introdurci a questo linguaggio con un programma un po' divertente. Con un giochino un po' divertente. Ovviamente questo programma non utilizza molte feature di Rust complesse. È molto elementare. Perché, ripeto, è un mio tentativo di imparare almeno i costrutti basi del Rust. Se avete il feedback, ovviamente lasciate nei commenti. E per il resto, buona visione. Partiremo da zero e creeremo esattamente questo programma. Step by step. Quindi, come al solito, il primo step quando vogliamo programmare in un nuovo linguaggio di programmazione è installare e capire tutta la tecnologia che sta dietro a quel particolare linguaggio di programmazione per farlo funzionare. Cioè, qual è tutto il software che poi mi permette di compilare un programma scritto, per esempio, in Rust? Ora, in Rust io l'ho fatto prima di tutto su Arch Linux, però poi farò vedere anche come farlo su Ubuntu per chi volesse seguire anche da lì. Allora, io su Arch Linux ho fatto sudo pacman s-s rust app. Rust app. Questo, presente, è un installer che gestisce poi tutte le cose, diciamo, di Rust. Una volta che ho installato questo Rust app, l'avevo già installato. Uno può fare Rust C version per vedere la versione. Ma poi, per effettivamente compilare, ci sono quelle che vengono chiamate le toolchain, facendo Rust app, toolchain, list. Praticamente abbiamo, io ho questa stable, ma all'inizio ti dirà non install toolchain. Se poi noi la vogliamo installare, facciamo con Rust app, Rust app install stable. Io l'ho già installata. Io adesso sto facendo il syncing, vediamo se c'è qualcosa da scaricare. Loading component, clippy. E qua sta scaricando tutti i componenti. Notiamo che tra questi componenti c'è anche il componente cargo, che poi vedremo sarà una specie di packet manager del software Rust, quindi sarà molto utile. Mentre Rust C sarà proprio il vero e proprio compilatore dei nostri file Rust, che infatti è anche il più pesante in termini di mega. Quindi noi con questo comando, che poi comunque metterò tutto in un file in descrizione, metterò il link in descrizione, quindi abbiamo tutte le cose interessanti. Rust SD, presumo sia la libreria standard di Rust. Rust C invece è il compilatore. E quindi abbiamo tutto installato. E quindi il comando da fare era Rust app install stable dopo che abbiamo installato Rust app, mentre Rust app era sudo pacman-s-rust app. Una volta che abbiamo installato Rust C, possiamo fare semplicemente, dopodiché dopo aver installato questa toolchain, se facciamo di nuovo Rust app toolchain list, vedremo la toolchain di stable. E se vogliamo, diciamo, se abbiamo più toolchain, per selezionare quella che utilizziamo di default, facciamo semplicemente Rust app default stable. Dato che io ne ho solo una, essenzialmente lui quella stable è anche quella di default. Ma se avessi più toolchain, perché? Perché comunque Rust ogni tanto rilascia, si vede che rilascerà vari tipi di toolchain, e quindi uno magari ne può scegliere tra queste. E quindi questa è l'idea. Una volta che abbiamo questo, potremmo scrivere per esempio il nostro HelloWorld. Io scrivo HelloWorld.rs, e il codice dell'HelloWorld è fn main, e poi qua scrivo println, questa sarebbe tipo una printn o una printf. Notiamo che questa, nel linguaggio di Rust, è una macro, perché c'è questo punto esclamativo. Non ho ancora ben capito come le macro sono interpretate da Rust, in un certo senso c'è come gestisce Rust le macro, però so che è una macro. Scrivo la mia stringa HelloWorld, e, ok, l'ho scritta. Adesso posso semplicemente andare qui e fare Rust C main, Rust C Hello, HelloWorld. Lui mi compila, ho il binario, questo è un binario Elf, se faccio File Hello, mi dà un binario Elf eseguibile, lo eseguo, e questo è il mio HelloWorld. E questo è per quanto riguarda compilare tramite il tool Rust C. Quindi adesso andiamo a fare la stessa cosa però sul sistema Ubuntu, perché magari appunto, quindi l'idea era quella di installare prima l'installer del toolchain, poi una particolare del toolchain, e poi quello che installerà il compilatore. Quindi install Rust App Ubuntu. Se andiamo a install Rust App Ubuntu, vediamo questo Rust App.rs, che ci dice fondamentalmente di utilizzare questo codice. Ora, ma attenzione a questo codice, perché? Perché quando un sito dice di installare questa roba, è molto pericoloso in termini di sicurezza. In che senso? Nel senso che, se noi andiamo a analizzare cosa fa questa roba, lui sta facendo il curl di praticamente un particolare file, e poi lo sta mandando in sh, cioè come se noi eseguissimo un file scaricato da internet. Ora, questa cosa in questo caso dovrebbe essere sicura, perché? Perché noi andiamo a fare il curl utilizzando TLS, in un dominio che comunque è noto e certificato e via dicendo. Comunque, magari, uno che potrebbe fare, potrebbe mandare prima di tutto lo script in un file, tipo shrastapp.rs, uno me lo scarica in un file, adesso posso analizzare questo file, ovviamente non vuol dire che io capisco questo codice, sia chiaro, magari in questo codice c'è una backdoor, è comunque in sicuro, comunque in questo modo io potrei avere un'opportunità di andare ad analizzarlo, per vedere se ci sono cose un po' che non mi piacciono, e una volta che l'ho analizzato e che sono sicuro che è safe, lo posso eseguire. Quindi questo, ripeto, non è che adesso è sicuramente sicuro, assolutamente, non è cambiato nulla, però abbiamo almeno uno step di verifica che uno potrebbe fare. Questa comunque è una macchina virtuale, quindi a me non mi interessa in questo caso. Io lo eseguo, lui fa info downloading installer, quindi sta scaricando l'installer, e poi praticamente current installation options, default, default toolchain, profile default, modify path, yes, proceed with installation default, io direi un'installazione di default, mi sa che forse ci chiederà, non so se ci chiede le permissioni. Qua nuovamente sta installando tutti i software che hanno a che fare con la toolchain di Rust, quindi Cargo, che sarà il packet manager, che poi lo vedremo, vedremo come si utilizza, Rust-C, che invece è il compilatore, insomma tutte le cose che poi andremo a utilizzare per compilare codice Rust, e per gestire pacchetti nell'ambiente, nell'environment di Rust. Dato che noi nel nostro codice dovremo utilizzare una libreria esterna, NC Courses, utilizzeremo anche Cargo, quindi vedremo come gestire i progetti velocemente con Cargo, quindi sarà un po' un progettino non proprio banale in Rust, allo stesso tempo però sarà anche abbastanza banale perché il software in sé non sarà molto complesso. Quindi, adesso, to configure your current shell run source, perché ora, se io faccio per esempio which Rust-C, lui non mi trova niente, perché? Perché lui ha messo i binari che hanno a che fare con Rust nella, in punto Cargo, a partire dalla mia home directory, env, cargo, anzi, punto Cargo, vediamo un po' qua che ci sta, ci sta Cargo bin, bin, esatto, qua ci sono tutti i binari che hanno a fare con Rust e quindi io questi me li devo mettere nella mia path, lui dice configure run questo, ora questo comando io me lo metto, sì, ma me lo metto nel file bash source, bash, bash, non bash, ma in quel codice bash che viene eseguito ogni volta, bash rc, bash rc, e qui alla fine mi metto questa, questa riga che avevo preso, praticamente che, non so qual era, perché praticamente era source, source, slash home, slash cargo env, vediamo un po', non era, non era coach, ok no, mi sto confondendo, allora qui ci dice praticamente di mettere questo tipo di roba, quindi io faccio, mi copio questo, mi copio il copy, faccio nano, vediamo che fuori dai max sono abbastanza lentuccio, e qua, scrivo semplicemente, tolgo questa roba, e scrivo, qua faccio paste, source home cargo env, perfetto, salvo sì, adesso io magari riapro una shell, quindi chiudo questo terminale e ne riapro un altro, faccio open in terminal, vediamo un po' se faccio which rust, ok, adesso me lo trova, quindi adesso sono in grado di compilare file scritti rust, se io abbo per esempio nano, tipo main.rs, e faccio semplicemente fn main, poi faccio qui le graffe e scrivo println, e poi scrivo hello world, e poi faccio chiudi, e faccio praticamente rustc main, lui me lo compila, mi ha compilato il file in main, questo è un file nuovamente, un elf binary, io lo eseguo, e ho hello world, adesso abbiamo anche cargo, which cargo, quindi abbiamo tutta la toolchain, quindi per ricapitolare, l'installazione della toolchain è molto semplice, eseguiamo questo comando, stiamo attenti ovviamente a capire il contenuto dello script, e poi possiamo utilizzare tutto quello che farò vedere anche per la gestione dei pacchetti, ma quello lo farò direttamente da Arch, tanto sarà la stessa cosa in Ubuntu. Ora, quando noi dobbiamo scrivere dei progetti rust che sono un po' più complessi di un singolo binario, tipo hello world, quindi qua scrivo hello world, e metto, anzi no vabbè, lasciamo così, quando io devo scrivere dei progetti un po' più complessi, c'è questo tool chiamato cargo, cargo è ripeto, il packet manager di tutti dell'environment rust, e per gestire un nuovo progetto posso fare cargo init, io faccio cargo init, e lui mi dà, ok ho creato un application, anzi lui così mi sa che me l'ha creato in questa cartella, io non voglio in questa cartella, quindi ora rimuovo tutti i file che gli ha creato, e farò cargo init, e scrivo hangman, e lì adesso mi ha creato una cartella hangman, in cui all'interno c'è un progetto rust, ora il progetto rust è formato tipicamente da questo tipo di cose, abbiamo un file.toml, un cargo.toml, è un file source, nel file source c'è un esempio di catmain.rs, che è un semplice low word, mentre nel cargo.toml c'è questo file.toml appunto che dice ok il nome è hangman, la versione è 0.10, l'edition è 2021, uno magari potrebbe anche dire 2022, e dopo di che ci sono le dependencies, dato che noi dobbiamo utilizzare nccurses, dobbiamo scrivere nccurses uguale 5.101.0 e praticamente uno dice ok come faccio a vedere questa libreria, uno può fare cargo.rust.ncurses, ci dovrebbe essere una repository online, crates.io, questo è il sito crates.io, che questo è una specie di web explorer per vedere tutti i pacchetti e nccurses ci permetterà di scrivere sul terminale tutti quei caratteri, di modificare il terminale e via dicendo, quindi è molto utile. Una volta che noi abbiamo messo questa dipendenza, per diciamo andare a compilare il progetto dobbiamo semplicemente fare un cargo build, noi facciamo un cargo build, lui ci dice ok fail to parse, fail to parse the edition key, this version of cache, is all there then and only supports, ok quindi già possiamo capire che è molto diciamo lui cerchete proprio di mettere cose, quindi edition qua deve essere 2021, quindi si lamenta abbastanza Rust, però questa è una cosa positiva, la dobbiamo prendere come una cosa positiva perché ci deve aiutare a scrivere un software ben strutturato e sicuro. Quindi adesso io ho rimesso praticamente la versione del 2021, ho fatto cargo build, lui adesso sta scaricando tutto il software che ha a che fare con la libreria NC Curses, quindi tutti i file Rust che poi li andremo a utilizzare nella nostra applicazione, quindi lui adesso fa diciamo in questo modo e quindi dopo aver fatto cargo build, lui mi ha generato praticamente una build, una build in target, mi ha generato la cartella target con la cartella debug e nella cartella debug ho tutta la roba per debuggare il mio software e anche il file elf che rappresenta proprio il mio software eseguibile e quindi qua lo posso eseguire sia qui proprio a mano oppure sempre nella cartella root del progetto posso fare un cargo run faccio un cargo run e lui vede se il software è cambiato in caso me lo compila e poi lo esegui subito dopo altrimenti se io voglio solamente fare un check rispetto se il file è compilabile faccio un cargo check se faccio un cargo check lui semplicemente mi controlla che il file è compilabile per come l'ho scritto io se adesso per esempio nel main cambio qualcosa tipo metto tolgo tipo questa parentesi in modo tale che non diventa più compilabile io faccio cargo check e lui dice guarda che non hai chiuso questa parentesi e qui quindi non funziona c'è un errore quindi lui controlla semplicemente gli errori in questo in questo parente in questo modo e quindi questo è molto 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 comodo quindi io rimetto questa cosa corretta vado qui e faccio di nuovo cargo check e quindi ho questa cosa perfetto inoltre quando io faccio cargo build tipicamente lui mi crea una build di debug perché io ancora non devo rilasciare il software e la build di debug tipicamente non è ottimizzata quando io però sono sicuro ho debuggato il mio software so che funziona e voglio rilasciarlo faccio un cargo build trattino trattino release e quindi questo mi permette di costruire un software ottimizzato per la release in target adesso avrò due cartelle la cartella debug e la cartella release vado nella cartella release e nuovamente posso eseguire il mio software che attualmente ovviamente fa solamente Hello World quindi tutta questa roba che ho fatto su Arch può essere fatta esattamente nello stesso modo su Ubuntu non cambia niente quindi iniziamo a scrivere il nostro primo codice RUST per fare questo faremo una specie di confronto tra RUST e C quindi io mi creerò un file test.c anzi lo creo fuori dalla directory del progetto test.c mi scrivo la mia questo è C questo sarà C e questo invece sarà RUST ok io mi scrivo la solita signature del main praticamente quindi ho int main questo è il codice C che abbiamo già visto e poi qua invece avrò fn main che sarà la funzione di RUST ok quindi entrambi hanno l'entry point come il main questo sarà il primo punto di esecuzione ora per esempio in C io posso fare una cosa come int a uguale 10 a uguale 5 che vuol dire vuol dire che ho definito una variabile intero chiamata a e poi l'ho chiamato il valore in 5 in RUST la stessa cosa faccio let a uguale 10 e poi faccio a uguale 5 ora notiamo questa cosa per definire i variabili utilizzo la keyword let poi il nome della variabile è a il fatto che poi qua è un intero e qui allora RUST pure è un linguaggio tipizzato e per definire i tipi io come posso fare posso utilizzare la sintassi fondamentalmente mi sembra che la sintassi da utilizzare era a due punti e qua posso fare tipo u8 per dire è un unsigned integer a 8 bit quindi i tipi in RUST sono molto più utili secondo me perché ti dicono esattamente se sono signed o unsigned e quanti bit hanno per esempio se io voglio semplicemente un signed integer posso scrivere i di 8 cioè questo sarà un intero con 8 bit vuol dire positivi o negativi quindi questo è l'idia quindi ci sono comunque i tipi quindi questa cosa si traduce tipo in una cosa del genere o se questo è un intero ha per esempio 4 byte cioè 32 bit io qua scrivo i32 quindi questa sarebbe proprio la stessa cosa notiamo però che succede se io provo adesso a fare un cargo check quindi vado indietro e faccio cargo check ora qui me lo metto in quest'altro terminale l'output ora che ci dice? ci dà questo errore ci dà let a ok first assignment to a consider making this binding mutable perché qual è l'errore che ci dà? ci dà cannot assign twice to immutable variable cioè che vuol dire che di default mentre una variabile in c di default è mutabile cioè può essere modificata nel corso dell'esecuzione una variabile in rast di default è immutabile cioè non ne posso modificare il valore e se le modifico il valore il compilatore mi dice guarda non lo puoi fare quindi vediamo questo comportamento di rast che cerca di rendere il tutto il più esplicito possibile questo ovviamente non con l'intento di dare fastidio e basta ma con l'intento di dare fastidio in modo tale da scrivere un programma migliore un programma più safe questa è l'idea e come faccio però ad avere questo behavior perché questo behavior è un behavior che vorrei avere bene devo utilizzare la keyword mut che sta per dire mutable voglio che questa sia mutabile possa cambiare nel tempo adesso se rieseguo cargo check mi dice va bene però non lo utilizzi mai quindi in un certo senso si lamenta un pochino ma questi sono warning molto molto utili notiamo invece che in C io non ho gli stessi warning cioè se io adesso compilo questo file per esempio sto qui e scelgo di compilarlo quindi sto presente qui faccio gcc test.c.c dotto c lui di default non mi dà questi warning per avere gli warning devo attivare la flag tipo w all se attivo w all lui mi dà gli warning quindi già rast di default ha questo tipo di filosofia della serie io ti do tutti gli errori tutti i warning possibili in modo tale che tu scrivi del software più sicuro possibile e quindi questo più o meno è un'idea ora nel nostro caso però cerchiamo di capire cosa dobbiamo scrivere per fare per quanto riguarda il nostro programma perché poi di feature diciamo di rust la cosa interessante di rust è anche la gestione della memoria ma in questo video in particolare non mi voglio dilungare tanto sulla gestione della memoria perché anche io la devo capire bene comunque l'idea fondamentalmente è che in programmi come il C la memoria è diciamo in un certo senso gestita in modo esplicito tramite le funzioni tipo malloc e free quindi quando il programmatore ha bisogno di memoria fa una malloc e la malloc gli prende nella memoria un pezzo di memoria e poi quando non la utilizza più fa una free sulla stessa pezzo di memoria e quindi il gestore della memoria sa che quella memoria adesso è libera però questo utilizzo esplicito di malloc e free può causare vari problemi di sicurezza quindi il rust per gestire la memoria si utilizza un altro meccanismo che sarebbe il meccanismo della ownership che però rivedo non mi voglio dilungare in questo video perché prima la devo capire meglio io stesso e poi questo comunque nel nostro progetto non dovremmo utilizzare troppo troppo le facilities della ownership quindi non ci interesserà troppo ora per avvicinarsi quindi al nostro progetto noi che facciamo qui praticamente quindi togliamo questo togliamo questo facciamo un extern quindi qua faccio un extern create nccurses quindi qua sto dicendo che nccurses l'ho preso da una libreria esterna e poi dico che importo nel current namespaces praticamente tutte le funzioni di nccurses e quindi lo faccio in questo modo use nccurses 2.2.star qui sto importando i modelli che poi al posto di cioè se io faccio così e basta lui comunque mi dovrebbe compilare faccio cargo check e mi compila e questo va bene però in questo modo se io dovessi utilizzare una funzione di nccurses della serie tipo la prima che sarà l'init dello screen che si chiama appunto init scr tipo io non posso fare init scr perché perché se faccio così mi sa che non te lo becca infatti perché dice guarda questo nome io non l'ho trovato nello scope dato e quindi quale sarebbe lo scope completo lo scope completo sarebbe questa 2.2. nc init si adesso me lo fa bene adesso me lo fa bene però dato che non voglio scrivere ogni volta ncurses faccio semplicemente un use ncurses 2.2. in questo modo io posso importo tutte le funzioni nel current namespace e posso direttamente chiamare la funzione in questo modo e adesso faccio un cargo check e si lamenta soltanto sulla variabile a che non era utilizzata e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è l'inizializzazione dello schermo dopodiché alla fine dovremmo fare ovviamente la end win end win è per chiudere fondamentalmente la finestra non so se dobbiamo fare anche una start win non penso perché quello che diciamo la cosa interessante è semplicemente questa qui è init screen e end win fondamentalmente e se io ad esempio già faccio un cargo run notiamo che lui run e poi ovviamente però si termina perché non fa niente fondamentalmente ora qual è l'idea di ncurses l'idea di ncurses è che questa libreria ci permette di trattare il nostro terminale come se fosse una specie di canvas in cui possiamo scrivere e fare roba quindi ogni pezzo ogni elemento del terminale dello schermo avrà una serie di coordinate tipo forse questa è la coordinata 00 e noi potremmo dire tipo muovi il puntatore il diciamo il pointer il cursore dove stai scrivendo in questo particolare pezzo dello schermo e scrivi da qui a qui una stringa noi lo utilizzeremo in questo modo e per fare questo ci sono due funzioni particolari che sono la move e la addstier con la move noi stiamo muovendo essenzialmente il puntatore tipo possiamo farlo in 2 e 5 faccio 2 e 5 e dopo che ho mostro il puntatore posso fare addstier e qui aggiungo una stringa al terminale hello world hello world ora per vedere questo codice noi che possiamo fare allora prima di tutto and win sta praticamente qui alla fine quindi faccio questa roba qui devo mettere il punto e virgola quindi faccio questa roba e però per vedere questo facciamo prima un'altra cosa cioè andiamo a chiedere l'input all'utente in modo tale che lo schermo è bloccato per chiedere l'input all'utente l'idea è di utilizzare la funzione getstier ora però la funzione getstier prende in input una stringa o meglio vediamo in dettaglio cosa per definire le stringhe in RAS posso fare let word uguale string due punti due punti new questa è una specie di costruttore di stringhe alloca della memoria per una stringa e assegna a word una specie di puntatore a quella memoria ora se però chiamo let word questo e poi chiamo getstier di word questo codice non compilerà e vediamo un po' se io faccio tipo cargo check io faccio cargo check lui mi dice expected end mutable expected qua utilizza queste sintassi particolari cioè questo ampersand mute e poi string found struct string quindi lui che dice lui dice che lui si aspetta una mutable reference cioè ci sta questa end che ha a che fare con la referenza e mute che ha a che fare con una mutability quella che abbiamo detto prima ora per trasformare questo codice in un codice compilato dobbiamo fare i seguenti passi qui dobbiamo cambiare la variabile e renderla mutabile cioè che la memoria che questo puntatore sta puntando questa word questa variabile sta puntando può essere modificata e inoltre alla funzione word non devo passare semplicemente il valore in sé della variabile ma devo passare una reference ma questa reference deve essere mutable quindi devo fare end mute quindi un sacco di concetti ora se facciamo cargo check però ci dovrebbe funzionare e adesso ci funziona ora prima di addentrarci a parlare di questa gestione cerchiamo semplicemente andiamo a fare semplicemente un cargo run quindi vado qui e faccio semplicemente un cargo run faccio un cargo run e notiamo che lui ci ha messo il word e ce l'ha messo a 0 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 quindi se lui inizia che qui è la 0 0 qui sarebbe la 0 1 qui è la 0 2 qui è la 1 2 qui è la 2 2 qui è la 3 2 4 2 5 2 una cosa del genere e qua 2 5 quindi vuol dire che la prima è la coordinata delle in un certo senso sono i movimenti in orizzontale più aumento e più vado a destra e la seconda invece è giù e più aumento e più vado in basso questo che vuol dire che se sto in 0 0 se io metto la stringa da 0 0 e faccio semplicemente un nuovo cargo run qui faccio ok faccio ok e poi faccio cargo run qui tolgo tutto e faccio cargo no cosa sta succedendo mi sta ok faccio vado indietro cargo run lui me la mette proprio lì perfetto e se io invece faccio tipo ok faccio questo lo tolgo faccio me lo metto in 0.5 mi aspetto che me la fa partire da aspetto un po' di spazio quindi un po' più a destra sempre alla prima diciamo riga ma un po' più a destra in termini di colonne ok faccio cargo run esatto quindi sempre nella prima riga ma un po' più a destra in particolare sono 5 colonne a destra perfetto quindi questa è l'idea ora noi con questa diciamo noi adesso che facciamo lui adesso sta prendendo il nostro input quindi dopo che ha preso il nostro input e penso che lui smetta di prendere l'input quando noi premiamo ok cerchiamo di stamparlo questo input possiamo fare una println println e poi faccio una println di word per stampare una cosa posso usare una format string in questo modo cioè sto stampando una stringa e qui dice ok sostituisco questo valore con il valore della variabile se adesso faccio questo e faccio un cargo run e poi scrivo hello poi lui mi stampa diciamo diciamo che non lo vedo perché lui così me lo stamperebbe nel terminale ma in realtà con nc possiamo farlo dopo endwin forse vediamo un po' dopo endwin mi stampo questa roba faccio hello ok perché l'ho dovuto fare dopo endwin perché perché fin tanto che nccurse sa il controllo del terminale io non posso stampare il terminale o comunque per stampare il terminale dovrei usare la funzione add str se io poi però alla fine di endwin io riprendo il controllo tipico del terminale e quindi dopo che la cosa qui ho hello quindi è quello che ho scritto se scrivo tipo ciao ciao lui mi stampa ciao ciao perfetto ora se invece lo voglio stampare all'interno della funzione devo utilizzarla add str ma se faccio la add str qui se faccio add str word vediamo un po' come se me lo dà se me lo funziona no mi dice found ovviamente borrow me here quindi qua devo fare soltanto il borrow devo fare soltanto in questo modo vediamo un po' cargo run esatto quindi me lo stampa e vediamo un po' hello ok però poi me lo rifaccio un'altra un'altra roba del genere vediamo un po' hello ok poi lui me lo stampa hello giusto e poi mi ricordo di scrivere qualche altra roba perfetto quindi questo è un modo in cui abbiamo quindi cercando di andare alla nostra al nostro output build qua che devo scrivere devo scrivere semplicemente welcome to the hangman game esatto e poi qua scrivo semplicemente quindi o faccio una move e poi una add str oppure posso unire queste due cose in move add str quindi prima faccio una move e poi inizio a scrivere la stringa a partire dalla locazione in cui mi sono mosso e quindi sto unendo questi due behavior se vogliamo dopodichè faccio quindi faccio questa questa non la chiamo word ma la chiamo secret e ovviamente però c'è una cosa un behavior che noi vogliamo di questo secret quindi qua potrei fare tipo move str tipo di qua metto 1010 per vedere semplicemente il segreto se me l'ha preso bene faccio secret quindi qua faccio secret e qual è il behavior che voglio implementare il behavior che voglio implementare è che la prima parola allora qui dice expected giusto quindi qua c'è il reference ok il behavior che voglio implementare è che se io scrivo tipo parola segreta questa parola segreta ok però poi devo richiamare get str semplicemente per far vedere quello che stampo fondamentalmente e prima ovviamente vorrei fare una move move di no va bene così va bene così non mi interessa perfetto quindi faccio un cargo run ok se io scrivo parola segreta ok qua lui me lo prende bene però io non voglio che si veda nel prompt perché altrimenti il gioco è un po' spoilerato all'inizio quindi devo disabilitare l'echoing dei caratteri quando mi metto a scrivere e come si fa a fare questo bene per fare questo devo semplicemente fare un no echo prima di scrivere e poi subito dopo che ho preso la string faccio un echo di nuovo cosicché quando io scrivo diciamo quello che scrivo non si vede a schermo se io adesso rifaccio quello di prima faccio cargo run adesso sto scrivendo qualcosa non si è visto adesso io premo invio me l'ha stampato avevo scritto proprio hello world confermo e quindi questo tipo di behavior funziona quindi abbiamo anche questo tipo di behavior qua possiamo fare read password from user without showing it without showing it on terminal on screen e quindi questo ovviamente il move non ci serve il get di nuovo non ci serve più o meno questa è l'idea poi un'altra cosa che sarebbe carino da implementare che se noi ricordiamo per come avevo diciamo implementato il tutto cargo run qua ci sono dei colori ci sono delle scritte colorate tipo hello è colorato in giallo inserire a parola indovinare le info sono colorate in giallo mentre le cose buone sono colorate in verde le cose cattive in rosso e quindi cerchiamo adesso di implementare questo behavior ora per implementare questo behavior fondamentalmente dovrò utilizzare questo tipo di faccio curse set cursor allora faccio cursor visibility cursor invisible perché io non voglio la visibilità del cursore questo è per eliminare la visibilità del cursore della serie se io non ce l'ho praticamente qua che cosa ho praticamente ho anzi facciamo una cosa nella terza shell mi apro un'altra shell qui in 6 dove ci sta la versione finale del programma che dobbiamo imitare e poi ci sta praticamente io faccio cargo run adesso io qui ho il cursore si vede il cursore io però non lo voglio non lo voglio e quindi che cosa faccio faccio cursor eseguo questa istruzione a questo punto mettiamoci qua anzi che forse è pure più comodo in cui ci mettiamo qua e quindi questo lo tolgo così abbiamo una sotto e una sopra in questo modo adesso il cursore non si vede più e questo è proprio quello che voglio perfetto adesso quindi muoviamoci read password eccetera la storia dei colori per gestire i colori in nccurse posso fare start color dopodiché devo dire init pair ora l'init pair associa ad un particolare intero una particolare coppia di colori e qui io definirò due definirò tre interi ma questi interi per ricordarmeli che rappresentano particolari colori di particolari tipi di messaggi li definirò come costanti all'inizio quindi qua all'inizio avrò una serie di costanti che sono const, info, message che sarà un i16 bit quindi un intero a 16 bit uguale 4 dovrebbe essere un intero col signed int questo sarà 4 quindi l'intero 4 mi rappresenterà la coppia di colori dei messaggi di info mentre avrò l'intero 5 e l'intero 6 che mi rappresentano rispettivamente la coppia di colori con i messaggi buoni e con i messaggi cattivi ma sono tutti comunque int sono i16 cioè sono degli interi col segno a 16 bit una volta che ho questo posso fare init pair e dico ok info, message lo voglio la coppia i colori sono in coppia della serie colore diciamo foreground e colore background tipo voglio uno yellow dietro ad un black e scrivo color yellow color black e quindi adesso faccio cargo check per vedere se va bene ok lui dice che non è mai usata ma va bene così quindi definisco l'info message poi definisco il good message poi definisco il bad message il good message è un green mi sembra color green anzi color color green sempre su uno sfondo nero e l'altro è color red sempre su uno sfondo nero e una volta che ho fatto questo quale sarà l'idea bene l'idea sarà quella di definirmi praticamente questo cioè quando io tipo voglio colorare questa scritta di un particolare colore adesso semplicemente faccio cargo run faccio cargo run lui che mi fa lui qua me la stampa di bianco ma io non la voglio di bianco la voglio di quel giallino e quindi che devo fare devo praticamente utilizzare queste funzioni attr on color pair e qua metto tipo info message quindi quando io faccio l'init pair lui si salva che a questo intero è associata questa coppia di colori foreground il primo background il secondo quando poi voglio cambiare la coppia di colori utilizzata per mostrare le scritte in un particolare modo utilizzo direttamente l'intero tipo l'info message se io faccio attr on in questo modo adesso e faccio cargo run adesso la scritta è diventata gialla con uno sfondo nero ovviamente notare che qui i colori dobbiamo notare il fatto che il max è leggermente trasparente quindi si vede un po' di background però comunque il colore è nero e giallo di foreground ora se io voglio però scrivere un'altra scritta in un altro colore perché adesso se io qui scrivo un'altra scritta tipo a 10-10 test 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 faccio di nuovo un cargo run lui anche questa test test mi ha scritto di questo perché una volta che faccio attr on è come se avessi in un certo senso messo quel particolare colore e basta se poi lo voglio togliere devo fare attr off faccio attr off attr off esatto in questo punto lui resetterà mi fa cargo run attr off punto e virgola punto e virgola adesso attr off e quindi questo diventa di bianco e quindi questo è l'idea ora per non dover scrivere ogni volta attr on poi metto la string e poi attr off quale sarà l'idea? l'idea sarà di incapsulare questo tipo di logica perché magari qui dovrei fare tipo ok adesso voglio un good message quindi lo scrivo un good message così poi però lo devo ritogliere quindi nuovo attr off e quindi questo diventa tipo tre linee di codice minimo per ogni cosa che devo fare quindi vogliamo un attimo incapsulare questa logica e l'idea sarà fondamentalmente di crearci una funzione che fa proprio questo la funzione la chiameremo quindi le funzioni si chiamano fn per function nome funzione print message poi metto il nome della variabile tipo message type due punti e il tipo della variabile perché perché il rust è un linguaggio statico fortemente tipizzato cioè ha un sistema di tipi molto molto forte però la cosa interessante del rust è che permette anche di fare type inference cioè che vuol dire type inference il concetto della type inference è molto interessante perché significa lui capisce il particolare di in inference lui capisce al compile time il particolare tipo della variabile dal valore che gli assegno cioè se io faccio semplicemente un let a uguale 5 lui capisce qual è il tipo di a a compile time non a run time tipo python lo capirebbe a run time in un certo senso perché in python le variabili non hanno un tipo sono i valori che hanno un tipo e quando assegni un valore di una variabile la variabile assume il tipo del valore in rust invece le variabili hanno un tipo e il tipo però viene calcolato a run time tramite la type inference cioè dice ok 5 è tipo un intero di tipo int32 i32 ok quindi a diventa una variabile i32 questo quindi lo posso fare sia in modo implicito tramite la type inference o sia in modo esplicito scrivendo proprio in questo modo ok info message è un i16 ma se io qui per esempio avessi tolto questo tipo non so se lui si sarebbe lamentato perché secondo me tramite la type inference avrebbe capito comunque qual è il tipo ovviamente non sono sicuro perché ripeto che io rust comunque non lo so utilizzare expect d36 fa un i32 esatto cosa è successo qui qui è successa una cosa interessante tramite la type inference rust ha capito che info message era un i32 perché si vede che il valore 4 è più o meno di i32 tipicamente però qual è il problema qui e perché abbiamo dovuto noi dire che questo in realtà è un i16 perché poi nella funzione init pair la funzione si aspettava un i16 e ha trovato invece un i32 e dato che rust richiede che i tipi siano diciamo convertiti in un modo molto molto specifico tramite delle regole ben precise quando lui ha trovato una conversione da un i32 a un i16 ha detto però aspetta questo non va bene perché perché un numero i32 non necessariamente è un numero i16 potrei perdermi dei bit questo porterebbe indicamente in c in un overflow che magari il compilatore nemmeno ci avvisa di questo overflow invece rust ci dice guarda che il tipo deve essere esattamente rispettato altrimenti ti vado in errore e non ti compilo e questo è molto molto utile quindi proprio per dire che la proprio perché la init pair prende non un intero a 32 bit ma un intero a 16 bit qua devo mettere due punti i16 qui metto due punti i16 qui metto nuovamente due punti i16 quello che ho fatto prima in poche parole i16 quindi non è necessario ma certe volte è necessario perché dobbiamo dire ok questo tipo specifico la type inference ovviamente non può capire proprio tutte le funzioni che utilizziamo in quel caso manualmente dobbiamo dire qual è il tipo quindi noi adesso vogliamo definire però la funzione che astraeva questo stampa dei messaggi quindi prima di definire questa funzione definiamo una enum message type message type quindi abbiamo tre valori per questa enum che sono info message una enum è una specie di raccolta di diciamo valori diversi per un particolare tipo quindi se non sbaglio qua stiamo proprio creando un tipo message type che può avere il valore info message good message o bad message bad message ok quindi abbiamo questi tre tipi e la print message prende un message type che è appunto una variabile di tipo message type è una enum e poi prende il messaggio che è un riferimento ad una stringa notiamo che questa funzione non ritorna nulla se ritornasse per esempio un intero qui dovremmo dire freccettina e poi il tipo dell'intero ritornato tipo un i32 oppure un bull oppure un str oppure un riferimento str cose del genere quindi il tipo è specificato con freccetta e poi tipo il nome del tipo e quindi questa è la nostra funzione ora come funzionerà questa funzione questa funzione effettuerà un matching sul message type e il match è praticamente il pattern matching quella è l'idea l'idea è che qui adesso descriveremo i vari valori che possono essere associati a message type e per ogni valore una freccetta ed un codice che viene eseguito solamente se questa variabile ha questo particolare valore e quindi abbiamo questo tipo di cosa molto molto figa message type due punti due punti info message abbiamo questa roba info message che vuol dire vuol dire che se message type è info message message type cioè se è un tipo di messaggio di info allora eseguiamo questo codice e il codice da eseguire ovviamente è attr on poi attr off quindi lo mettiamo e lo togliamo e poi qua stampiamo praticamente add str e però add str vediamo come fare qui dovremo stampare la stringa messaggio quindi questo in questo caso altrimenti che cosa abbiamo beh se abbiamo un altro tipo di messaggio abbiamo altri due tipi di messaggio che sono praticamente info qui info sarà good message e quindi qua sarà good e good e poi qua ci sarà bad message che sarà bad e bad cioè abbiamo i tre colori a seconda del tipo di messaggio così che la prossima volta non dovremo più fare quel attr on e attr off ma possiamo semplicemente fare print message con il particolare tipo del messaggio ora domanda qui a questo punto come stampiamo il messaggio per stampare il messaggio l'idea è quella di prependere di diciamo attaccare prima del messaggio una scritta tipo info per un messaggio di info oppure good per un messaggio di good e via dicendo e qui poi ci sta effettivamente il messaggio vero e proprio che però dovrà essere interpretato con la format string che abbiamo forse visto un po' prima mi sembra quindi l'idea è di utilizzare una macro chiamata una format macro e la sintesi fondamentalmente è ampersand format punto esclamativo dopo di che qui dentro che metto metto info qua metto un trattino una specie di dash qua metto il valore del messaggio quindi notiamo che questa è una sintesi che ancora devo capire bene perché questa è una macro una format macro di russ le funzioni che finiscono un punto esclamativo da quello che ho capito sono macro e le macro non sono funzioni hanno delle proprietà speciali perché permettono di generare altro codice però però di questa macro noi vogliamo il riferimento quindi prendiamo la reference quindi prendiamo quella ampersand qui quindi aggiungiamo questa stringa quindi qua in info qua sarà invece in good ovviamente e qua sarà in bad qui faccio un good con la faccetta che sorride e qui sarà in bad con un'altra faccetta con la faccetta qua sarà good e qua sarà bad con la freccetta che è mezza tipo così confusa e quindi abbiamo questo ora riscriviamo questo codice utilizzando la print message function e quindi facciamo print message quindi facciamo print message qua faccio info message e poi faccio test test anzi no perché effettivamente sarebbe sarebbe una move di 05 e poi stampiamo il messaggio welcome to the hangman hangman game di testing quindi facciamo questo messaggio di testing di info in realtà ok quindi adesso abbiamo questa roba ok adesso se lo faccio semplicemente faccio uno faccio cargo run not found in this scope info message giusto perché devo fare praticamente message type info message giusto message type info message ok cargo run ok adesso lui me la stampa me la stampa bene me la stampa in in giallo e però poi se io qui faccio un add estier di un'altra roba faccio move 1010 e poi un add estier di un'altra roba lui che cosa mi fa lui mi fa semplicemente me lo stampa di nuovo in bianco senza fare attr on attr off e quindi questo a lungo andare sarà molto molto utile quindi dopo aver gestito la stampa dei messaggi facendo in modo che messaggi di tipo diverso avevano colori diversi tipo il messaggio info aveva un colore giallo il messaggio good colore verde e via dicendo l'idea è quella di continuare la scrittura della logica del gioco e quella è la logica del gioco bene l'utente dovrà scrivere per esempio una parola segreta da tipo indovinare tipo il lo a questo punto noi ci costruiremo una rappresentazione interna di questo lo che terrà conto delle parole che ancora devono essere indovinate quindi inizialmente la stringa sarà piena di underscore perché tutte le parole devono essere indovinate poi però se tipo l'utente mette h allora dico ok la prima è stata indovinata se poi l'utente mette l dice ok poi la terza e la quarta sono state indovinate qua mette l l quando mette o dice ok la quinta è stata indovinata poi magari l'utente perde qui perché d non ci sta f non ci sta eccetera e quindi poi questo è lo stato finale del gioco quindi come si va a fare questo per fare quello dobbiamo utilizzare dei costruttori di stringa della serie facciamo un let mutable guest word so far questa sarà una stringa che rappresenta lo stato corrente del gioco e come la costruiamo bene ripeto all'inizio saranno tutti underscore quindi faccio il carattere underscore in stringa poi faccio repeat cioè mi costruisco una serie di una stringa che è la ripetizione di questo carattere quante volte la ripeto la ripeto per la secret len la lunghezza della stringa secret che l'utente ha inserito quindi dopo aver messo questa guest word so far quindi che vuol dire se noi la stampiamo semplicemente faccio un print mess anzi faccio un move faccio un move di 10 10 e poi faccio un add str add str di guest word so far di questa qui c'è un add str di questa qui e la eseguo faccio un cargo run cargo run praticamente add str voglio mettere una reference ok qui scrivo hello world e poi lui me la stampa ovviamente ogni volta mi dimentico che poi lui chiude subito il programma quindi devo metterlo in hanging con un'altra stringa da leggere hello world e quindi lui inizialmente mi stampa tutti questi underscore che mi rappresentano appunto lo stato corrente del gioco e questo va bene ora l'idea qual è? l'idea è che adesso devo fare un'altra variabile sempre una variabile mutabile perché la dovrò cambiare si chiama trice e questo lo definisco a un valore costante max trice che sarebbero il numero massimo di tentativi questa è una costante che mi definisco qui in alto max trice e la definisco di tipo i8 cioè un intero con 8 bit che inizialmente definirò a 8 avremo 8 tentativi quindi ora diciamo qua possiamo fare semplicemente un loop ora la keyword loop serve per fare un loop infinito quindi possiamo fare un loop potremmo fare anche tipo while trice è maggiore di 0 è uguale in realtà però facciamo loop facciamo loop ora all'interno di questo loop noi dovremmo fare varie cose quindi anzi prima di entrare nel loop facciamo questa cosa che dobbiamo fare nel loop nel loop dobbiamo fare primo stampare stato corrente per dire all'utente quanti tentativi gli rimangono e qual è lo stato corrente della parola che ha indovinato quindi stampare stato corrente della serie qua abbiamo due sotto informazioni stato corrente parola e poi abbiamo anche tentativi rimanenti dopodiché dobbiamo diciamo chiedere all'utente di anzi qui controlliamo quindi controlliamo lo stato del gioco se abbiamo terminato in un certo senso diciamo controllare controllare stato di terminazione se il gioco è finito ovvero se abbiamo finito i tentativi oppure se l'utente ha indovinato effettivamente la parola dopodiché chiediamo chiediamo all'utente di inserire una nuova lettera e poi facciamo il check quindi facciamo check della parola chiediamo e poi facciamo il check della parola e poi aggiorniamo lo stato aggiorniamo lo stato del programma del gioco in un certo senso quindi devo fare tutte queste cose allora facciamo singolarmente e poi le mettiamo in un loop quella è l'idea per quanto riguarda stampare lo stato corrente avremo praticamente facciamo una move 18.5 queste coordinate praticamente io le ho viste rispetto al mio schermo ora magari schermi diversi si comporteranno in modo diverso però diciamo su questo c'è poco che posso fare qui era una 2.5 mi sembra era una 2.5 e qui posso fare perfetto questa roba e welcome to the hangman ottimo quindi qua faccio un move 18.5 e qua faccio una print message una print message tipo questo è sempre un messaggio di info però questa volta sarà un po' diverso perché nel messaggio di info dico stato corrente e qua metto diciamo che cosa fondamentalmente qui vorrei mettere lo stato corrente della guesswork so far cioè il valore di questa stringa però dato che qui devo mettere una stringa e basta il costrutto sarà simile a quello che ho utilizzato qui cioè devo usare questa macro format per farmi il format della stringa quindi fare ampersand format qui metto stato corrente poi virgola faccio guest world so far e qua metto una reference a questa stringa in questo modo dovrei stamparmi il contenuto della stringa guest world so far e però me lo metto nella diciamo in questa sintassi particolare stato corrente e tutto questo lo stamperò come message type info message quindi faccio cargo run faccio hello world e poi lui ovviamente nuovamente ogni volta mi rompo da questa cosa questo lo posso probabilmente alla fine va lo metto alla fine faccio così faccio hello world lui mi dice è stato corrente qui alla fine e mi dà questa cosa e tra l'altro non so se magari qui 18.5 18.5 ok ci sta vediamo un po' se lo eseguo questo era quello vecchio hello ok è stato corrente invece se io faccio quello nuovo praticamente quello nuovo nella full terminal sarebbe questo cargo run hello mi sembra un po' troppo basso ah no non è troppo basso è giusto perché sopra devo stampare roba fondamentalmente giusto anzi qui qui prima di fare guest world prima di indovinare la parola stampo un messaggio quindi mi muovo di 16.5 e poi stampo un messaggio print message inserire parola da indovinare qui scrivo inserire 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 parola da indovinare indovinare qua metto uno spazio così perfetto così che c'è più senso hello world perfetto stato corrente poi mi dà lo stato corrente dopo perfetto e proprio se vogliamo essere ancora più noiosi qui prima ancora di iniziare il loop faccio un move praticamente di 16.5 non di 16.5 ma di 17 quindi subito dopo e qua faccio un add str perché non devo formatarlo con un particolare questo va bene in bianco se vogliamo questo va bene in bianco anzi 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 no perché vi dico va bene in bianco lo voglio in così inserire parola di indovinare qui ci metto fondamentalmente tutti i spazi tutti i caratteri di questo tipo magari un pochino riprendo magari questo è troppo troppo lunga come stringa quindi mi fermo qui fondamentalmente ok poi faccio cargo run e lo anzi ok che ho questo info nel programma finale com'era? mi ero dimenticato cargo run e lo no è bianco effettivamente secondo me viene molto meglio bianco quindi faccio semplicemente un addestier perché quando voglio le cose senza formattate come info faccio una addestier molto molto semplice e adesso dovrebbe funzionare faccio una cargo run ovviamente qua devo mettere un punto e virgola e lo perfetto magari un po' più grande un po' più grande quindi praticamente questo mi devo prendere come stringa come riferimento questa stringa la devo fare uguale quanto questa quindi praticamente vuol dire che qua devo farlo un po' più di caratteri ok vediamo un po' e lo perfetto ci dovrebbe stare ok ottimo e quindi abbiamo questa roba quindi prima stampiamo lo stato corrente dopo stampiamo ci muoviamo di uno in basso quindi facciamo una move 18 5 e stampiamo un altro messaggio ma questa volta gli stati rimanenti tentativi rimanenti cioè i tentativi rimanenti e quindi qua non ci sta più gas for so far ma ci sta trace giusto quindi adesso lo stampo faccio lo riavvio quello tentativi rimanenti 8 e noi andremo a modificare queste variabili e la figata di nccursus è che noi rieseguendo questo codice ma con valori diversi di variabili andremo ad avere quel behavior dinamico dello schermo che ci andrà a modificare dopo di che qui controllare lo stato di terminazione lo facciamo dopo e chiediamo all'utente di inserire una nuova lettera quindi andiamo a fare questa roba quindi faccio move 32 5 sempre coordinate scelte un po' così a seconda del mio schermo faccio un ok qui scrivo praticamente inserire lettere basta qui scrivo inserire lettera e faccio estampo questo messaggio a questo punto è un codice interessante perché questo codice avrà a che fare con prendere l'input dall'utente perché adesso io ho questa roba inserire parole novinare a questo punto dopo inserire lettera qui io voglio prendere la prima lettera che l'utente scrive e comportarmi di conseguenza quindi il codice sarebbe let key uguale get c get char poi faccio una let mood found uguale false notiamo che la chiave la key premuta dall'utente non è mutabile perché non devo cambiarla mentre la variabile found la dovrò cambiare in true se trovo se l'utente scrive una lettera che è presente nella parola da indovinare e quindi faccio for allora qui faccio una specie di loop e per il loop in russ lo faccio in questo modo for index c for index c in secret.chars punto enumerate ora qual è l'idea 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 che se io volevo un semplice for loop lo devo fare un for c in secret punto chars e qua magari potevo fare un add str tipo un move di potevo fare un più che add str secondo me lo posso fare alla fine perché qua interagire con ensecurs potrebbe essere noioso quindi dopo che mi termina la cosa di ensecurs posso fare un semplice println che mi va a capo dc tipo in questo modo questo è un semplice for loop cioè io mi stampo tutti i caratteri della keyword secret io faccio così faccio cargo run e lo E poi lui mi stampa E lo uno dopo l'altro Perfetto Se invece voglio carattere e indice Carattere e indice Devo fare un enumerate Se faccio un enumerate Se faccio qui un enumerate Lui qua mi genera delle coppie In cui il primo elemento della coppia è un indice E il secondo è il carattere Quindi ho praticamente indice Carattere Quindi ho index carattere Se adesso vi faccio la stessa cosa E lo faccio ok Lui mi da indice Poi due punti E poi carattere Quindi in questo caso Devo fare questo loop In questo modo particolare E quindi qua faccio questa cosa Faccio secret enumerate Dopodichè faccio Se C O uguale a chi Ora C sarebbe un carattere Della Della mia parola di indominare Quindi se La mia parola di indominare Contiene Cioè se la lettera inserita dall'utente Matcha Con una lettera Della parola di indominare Allora che faccio Allora qui faccio Chi Però chi la devo Così non funziona Perché chi Tipicamente è Mi sembra che se faccio così In questo modo è basta Lui si lamenta Se io faccio Found uguale true Lui si lamenta Vediamo un po' Perché si lamenta Proviamo un po' a capire Perché si lamenta Faccio cargo run Ok perché lui fa Expected char Found i32 E quindi io ho un i32 Quindi io devo cambiare Questo i32 In un char Se io faccio Io faccio as char Invalid cast Invalid cast perché Perché Only u8 Can be cast as char Not i32 Lui sta prendendo un carattere dall'input E lo tratta come un intero i32 Cioè l'output di questa getc Sarà un i32 Ora però a me mi interessano solamente i caratteri ascii Perché in realtà in Rust c'è un supporto pure per caratteri unicode A me mi interessano soltanto i caratteri ascii che so possono essere embeddati in un i8 E quindi un i8 lo posso vedere anche come un char Ora Per fare questo tipo di cast quindi lui che mi dice Lui mi dice guarda che u8 Cioè lui ha trovato un i32 Ma solamente un u8 può essere castato da char Non un i32 Quindi devo fare prima as u8 As unsigned E poi as char Devo fare questa catena di conversioni E questa volta non mi da problemi Quindi faccio hello Faccio h e low E poi faccio questa roba Ora Per quanto riguarda Perché qua ci sarà anche questo get str Ora se io tipo la stampo e basta Voglio stampare dove Voglio stampare tipo Vediamo Anzi se io faccio found Voglio stampare Move Faccio found i punti Faccio move Tipo 20 20 Anzi 25 Tipo 5 Voglio stampare Ad str Found Ok una cosa del genere Vediamo un po' Cargo run Adesso io faccio tipo hello E la parola da indovinare H Ovviamente poi Devo anche Terminare il programma Cioè devo vedere Quello che stampo Quindi faccio una get str Forse Sicuramente ci sarà un modo Per aspettare L'out Di tipo mettere in pausa il programma H Ok lui mi dice found Perché H Effettivamente è presente Quindi lui l'ha trovata Quindi se io metto H Lui l'ha trovata Perfetto Questo è importante Ora Dopo aver verificato Che una parola è presente Nella Che L'input Dell'utente È presente Nella secret word Dobbiamo anche Sostituire adesso La guest word So far La dobbiamo aggiornare Cioè qui facciamo Tutto di botta Secondo me è abbastanza sporco E questo ovviamente è il codice Che non mi piace Proprio di meno Faccio guest word So far Faccio replace Faccio praticamente Replace range Faccio index Index Per dire Rimpiazzami i caratteri Da index A index Più No ma mi sembra Che questo è esclusivo Quindi mi rimpiazza Solamente l'index Mi rimpiazza l'index Con che carattere Mi rimpiazza l'index Con il carattere Praticamente che sarà Chi As U8 As Char Oppure posso fare anche C No Chi As U8 As Char Poi una reference A questa cosa To Underscore String Ora questa è una cosa Abbastanza brutta Ma qual è l'idea L'idea che io devo fare Un Replace range Il range Di rimpiazzamento È praticamente L'indice Index Quindi è un soltanto Valore E lo rimpiazzo Con la stringa Che è fatta Di un solo carattere Del carattere Chi Quindi questo Nella pratica Poi come si traduce Si traduce che Se la mia secret order È low E sto al primo identativo E la mia guesswork So far Era tutti Underscore E poi magari L'utente mette h Allora la secret La guesswork So far Passa da questa roba A quest'altra roba Qua ci mette h Quindi il primo carattere Ci mette h E poi tutti gli altri Sono underscore Quindi 1 2 3 4 5 Esatto Perché lui che fa Lui fa questo loop Fa questo loop Ogni volta che trova Il carattere h Nella secret word Rimpiazza la guesswork So far In quel particolare indice Quindi per esempio Nell'indice 0 Con la chiave Con la chiave Però lui fa questo Chiave to stringa Perché in realtà Questo è un solo carattere Però devo fare a stringa Perché devo rimpiazzare Proprio la stringa Quindi Non è proprio Bella come sintassi Però dovrebbe funzionare Quindi io faccio questa roba E a questo punto Io che cosa posso fare Posso aggiornare Lo stato del programma Della serie Faccio un move di 25.5 Faccio se l'ho trovato Se l'ho trovato Allora devo printare Un messaggio Di tipo Message type Good message E devo scrivere Found Cioè ho trovato qualcosa Altrimenti Else Devo fare un bad message Bad message E nel bad message Scrivo not found E qua metto una faccetta Un po' più triste E qua metto le due string Praticamente della stessa lunghezza Così non mi confondo Questa stessa lunghezza Ok Ora Una volta che ho fatto questo Però nel caso else Se non ho trovato un match Devo diminuire il numero di trice Devo diminuire il numero di trice Quindi faccio trice Meno uno Perfetto E a questo punto Io che cosa faccio Niente Non faccio assolutamente niente Perché Perché a questo punto Io che posso fare però Ok Ho questa roba Vediamo un po' Quindi cerchiamo un po' Di capire E se funziona Questo tipo di codice Faccio cargo run Lui mi dice Inserisci la parola del novinario Scrivo il lo Stato corrente Io tipo faccio h E però lui subito Mi termina Se io voglio Mettere tutto questo In un loop Posso fare qui Praticamente all'interno di questo Faccio un loop Qua metto un loop Anzi posso pure fare un While Rise Maggiore di 0 Perché? Perché col while tries Io mi fermo Quando la condizione è falsa Con loop invece Un loop infinito E quindi dovrei fare un break All'interno Però faccio While tries Maggiore di 0 Secondo me ci sta While tries è maggiore di 0 Faccio questo Trice Minore o uguale di 1 E faccio questo Ok Adesso Che cosa faccio? Faccio cargo run Faccio tipo hello Lui mi dice Ok inserire la lettera Se io metto h Lui mi dice found Aggiorna La Word to guess Perché? Perché nel mio Primo tentativo Lui me la stampava Come tutti underscore Poi però io chiedo L'input all'utente E aggiorno In termini di tries Found o not found Quindi stampo Il found o not found E poi La nuova guess for so far È ottenuta dalla vecchia Che rimpiazzano tutti i caratteri Che sono stati indovinati Con i caratteri effettivi Tipo se premo L Lui rimpiazza la L Se premo D però Lui mi Questa volta però Mi diminuisce il numero di tries Quindi fa tentativi rimanenti 7 Not found Quindi posso arrivare alla fine Alla fine io termino Quindi alla fine io termino Quindi questo va bene Questo era l'altro programma Quello finalizzato Perfetto Quindi alla fine io termino Però qui Qual è il problema? Il problema è che Appena io ho tries Uguale uguale al 0 Questo praticamente non funziona E secondo me Togliamo questa roba E ci mettiamo un loop Perché? Perché in realtà La terminazione la controlliamo Subito dopo Mettere lo stato corrente Cioè che vuol dire Qui controlliamo la terminazione E ci occupiamo di uscire Altrimenti alla fine Non sappiamo il messaggio Che abbiamo vinto o perso E via dicendo Cioè altrimenti Quello sarebbe un po' più Oddio In realtà no Perché io qua Che posso fare? Controllare il stato di terminazione Stato corrente E alla fine Che posso fare? Posso fare se You won't You lost Cioè alla fine Io faccio un while Try se è maggiore di 0 E controllare lo stato di terminazione Lo faccio qui No? Perché? Ah no Però perché qui non controllo Se Perché ho vinto Cioè qui esco solamente Quando il try se è maggiore di 0 Ma non nel caso in cui invece Ho indovinato tutta la parola Quindi no In realtà è sbagliato Lo faccio così E qui controllo effettivamente Lo stato del programma Quindi faccio Poggo tutto quello di prima Quindi qua faccio un loop Quindi a questo punto Noi dobbiamo controllare Lo stato di terminazione Perché? Perché questo loop È un loop infinito Quindi lui continua ad eseguire Continua ad eseguire Continua ad eseguire Ma a un certo punto Possono succedere due cose O l'utente finisce I suoi tentativi a disposizione O l'utente indovina Completamente la parola Appunto da indovinare E quindi dico ok Mi muovo a 25.5 Cioè alla fine dello schermo E faccio if thrice uguale uguale a 0 Se ho finito i tentativi Ho perso E faccio un break Altrimenti Else if GuestWordSoFar.find Uguale uguale a none Allora ho vinto E faccio sempre un break Perché? Perché in questo caso Ho finito tutti i tentativi E ho perso Altrimenti Nella GuestWordSoFar Non ci sono più l'underscore Che vuol dire? Vuol dire che ho scoperto Tutte le lettere E quindi ho Diciamo ho vinto In un certo senso E quindi qua stampo PrintMessage Faccio un printMessage Ma questo sarà un bad message Perché è un messaggio di sconfitta E scrivo semplicemente You lost You You lost The secret Was E poi metto il segreto In questi apicetti speciali E qua faccio EndSecret Altrimenti Faccio you won You won Senza Senza format Perché adesso non devo fare più una format Cioè non devo più interpolare la stringa Con altri valori Faccio you won e basta E qua ovviamente sempre un break A questo punto La logica del gioco Sembra essere terminata Perché poi io Prendete qui termino E basta E quindi magari qui posso metterla Vediamo un po' come funziona Quindi faccio un cargo run Qui faccio hello Faccio h e l o E poi però lui mi termina subito Per non fare in modo che lui mi termina subito Posso fare un move 28 0 E poi faccio un no echo E poi faccio un get c Ok cioè tipo della serie io cerco forza un input utente Una specie di invio per terminare correttamente Quindi io qui scrivo hello Poi faccio h e l l l l tipo o Poi fa you won Però col messaggio bad Questo lo devo sistemare Qua c'è una tipo una parentesi che non so da dove viene E basta Ok quindi Allora vediamo un po' You won Non bad message ma good message Good message Perfetto E nel bad message Magari non so se c'era Ok Dovrebbe funzionare Ok se io faccio così Faccio hello L l o Ok you won Premo un altro tasto e mi chiude il programma effettivamente Se io faccio tipo hello E poi però Perdo tutti i tentativi Fa you lost The secret was hello Quindi tutta la logica L'abbiamo gestita L'unica cosa che ci manca da fare adesso è Praticamente la gestione Proprio del langman Cioè Allora prima di tutto questo husky Un po' di husky art se vogliamo Questo schermo introduttivo E poi questa cosa che si modifica a seconda di quante vite ho Perché a seconda di quante vite ho Io faccio Io stampo Questa specie di Appunto hangman L'uomo impiccato Che si sta Che Man mano che io Perdo vite praticamente Lui si Si ci prende il video Hello Didi Man mano che io perdo vite Quindi ad ogni tentativo Avrò una Un progresso diverso Per quanto riguarda Il 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 coso del langman Quindi per fare questo Praticamente sarà molto semplice Perché Perché qui metteremo una funzione Show logo Subito dopo Praticamente a Welcome to the hangman Quindi faccio show logo Questa sarà la funzione Per stampare il logo E poi qui Avrò una Una funzione per fare Praticamente Show Hangman E qui però Show hangman Sarà una funzione Che a seconda del trice Stampa effettivamente Un particolare Hangman E quindi questa è l'idea Poi qui in realtà Stamperò un altro messaggio Quindi faccio una Move Di 3 e 5 E stamperò Semplicemente con Un add Str Perché saranno tutti Spazi bianchi Saranno tutti Spazi bianchi Praticamente A seconda di Si saranno un po' Di spazi bianchi Così E poi faccio show logo Quindi definirmi Le mie funzioni Praticamente Fn Show logo Che non stampa nulla E poi Fn Vediamo un po' Show hangman Questa però È in funzione Dei trice Show hangman In funzione Dei trice Che i trice Sono un I mi sembra 8 Un i8 E nuovamente In output Non ci ritorna niente Ora per quanto riguarda Queste definizioni Che cosa Qual è l'idea L'idea è fondamentalmente Di fare un Tante move Ad str Però praticamente Io qui ce le avevo Già preparate Perché da scrivere Sono un po' Un pain Ma questa più o meno È un po' Di ask art Così L'ho fatta a mano L'unica cosa Importante da capire È che Perché qua Appare un po' Strano Perché il braccio Sinistro È semplicemente Questo tipo di slash Ma il braccio Destro È un backslash E un backslash Tipicamente viene interpretato In modo speciale Quindi devo fare L'escaping Del backslash Per fare questo escaping Ne devo mettere Due di fila Cioè con due di fila Poi la stringa Valore Verrà interpretato Come un singolo Di questi qua E quindi questo È per quanto riguarda Lo show logo Per quanto riguarda Lo show hangman Hangman Faccio sempre Trice Appunto Ce l'avevo sopra Mi sembra Dove sta la funzione No L'ho cancellata A quanto pare Per quanto riguarda Lo show hangman Devo fare hangman Devo fare trice Che è sempre una I8 Una I8 Qua che faccio Faccio semplicemente Un if trice Uguale uguale a 8 Stampa una cosa Else if trice Uguale uguale a 7 Stampa un'altra E via dicendo Quindi man mano Che Questi sono hardcoded Non so se c'è un modo Migliore per farli In meno In modo più veloce Quindi 6 5 4 3 2 1 E mi sembra 0 Non so se metto pure 0 Si metto pure 0 E qui praticamente All'interno di questi qua Ci metterò i vari progressi Del mio hangman Sempre Con le stesse coordinate Quindi avrò tipo Per l'8 Che sarà quello iniziale Che sarà questa roba Poi per il 7 Sarà un'altra roba Che ovviamente ci sarà la testa E questo qua ovviamente Appunto Non c'è molta Molto da dire al riguardo È semplicemente tipo Copiato E che me ne sono preparate qui Poi tipo abbiamo 5 Che invece è Il piede sinistro 4 Che è Piede sinistro e piede destro 3 Che è la mano sinistra Poi ci sarà 2 Invece Che è La mano sinistra E la mano destra E notiamo che sia per il piede destro Che per la mano destra Dobbiamo fare l'escaping Del backslash Poi abbiamo 1 E poi abbiamo 0 Che sarebbe il ripo finale Cioè la morte E perfetto Quindi questo Dovrebbe andare Vediamo un po' Adesso facciamo un Finale Cargo run Ok abbiamo un problema Di disopening braces Is not close Quindi un problema di parentesi Che non si chiudono bene Quindi 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 Questa parentesi Ok c'è una parentesi Chiusa in più Semplicemente C'è un cargo run Found Expected Found i3 Move ads Questa qui 1.50 Ok c'è una cosa Che non metto il punto e virgola Metto il punto e virgola Come se fosse una parentesi Che non metto il punto e virgola Ok qui 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 Non so se alla fine La devo mettere oppure no Devo mettere Non penso Non penso Ok Ok se adesso Io faccio di nuovo Un cargo run Expected Ad estier Ah giusto Ad estier Alla fine qui Che praticamente Devo mettere Questo punto e virgola Ok Ok adesso abbiamo Lo schermo iniziale Lui ci dice Ok mettiamo la parola Indominare E scrivelo Poi lui toglie Quello schermo iniziale Che serve Una specie di logo E questo è lo stato Proprio È lo stato visivo Grafico Dei nostri tentativi rimanenti Se io scrivo Un found C'è un int Corretto In un certo senso Lui non mi aumenta Il progresso Verso la morte Sempre faccio tipo D Lui mi mette la testa Poi il corpo E poi la gamba sinistra Gamba destra Braccio sinistro Braccio destro L'X nella testa E poi il rip finale Ho perso The Secret Tuosello Premo ok E mi termina Se invece faccio Una run corretta Io primo Premo tipo hello Faccio hello Mi fa you want E poi premo ok E finisco Quindi questo era Un po' un esempio Di programmazione di Rust In realtà non c'è nulla Di speciale qui In realtà Di costrutti di Rust Ce ne sono veramente pochi E in particolare Quello che dovremmo Approfondire sicuramente È questo utilizzo Della memoria Tramite il meccanismo Di ownership E questi reference Questi mutable reference E via dicendo Questo è super super affascinante Lo esploreremo In altri video ovviamente Però è stata un'introduzione A Rust Spero che sia stato interessante E al prossimo video